Giuro oggi è la prima volta che prendo la cremaliera Pinetti Quezzi ecco già il biglietto mi è caduto, un attimo iniziamo bene beh? è gratis? ok, dove andiamo? via Portazza, via Fontana Rossa amore, non ho mai preso la cremaliera dai dai, sbaglio mi sembra di essere la curmaier ma non lasciamo nessun idea quella madonna c'è il fantasma questa è la prima stazione sarà via Portazza e anche tra poco vediamo casa oh madonna è tutto buio si vede la mia casetta si vedono le luci della mia casetta si vedono le luci della mia casetta guarda come si vede bene la mia casetta l'albero si vedono tutte le luci che sbaglio dai che esperienza wow la scuola stiamo arrivando ultimo pezzo sembra di essere sui dolomiti spallo questo si becchiamo il controllore facciamo vedere che non funzionava da obliteratrice non funzionava si apre dove si esce? qualcun'altra l'ha chiamata sta scendendo di nuovo perché con me non siano accese le luci? va bene va va Grazie a tutti.